buongiorno a tutti benvenuti al reale istituto nirlandese di roma sono seduta perché sennò la gente che non sta qui ma sta online non mi vede mi dispiace sono rita l'andvirt direttore aziendale dell'istituto e mi fa molto piacere di vedervi e incontrarvi oggi qui di solito in questo auditorio ci sono studenti o ricercatori che imparano delle cose molto interessanti dalle esperti e anche l'uno dall'altro oggi come bibliotecari siete voi il nostro pubblico e questo è speciale perché di solito voi aiutate i studenti e i ricercatori a trovare nel grandissimo quantità di conoscenze che sta in ognuno di vostro i vostri istituti o di vostre biblioteche a trovare la loro strada e oggi stiate qui a imparare a fare ancora meglio il vostro lavoro e di imparare dagli esperti e voi l'uno li uni degli altri vi auguro una giornata molto stimolante e istruttiva bocca al lupo bene è arrivato anche stefano quindi velocementi due ringraziamenti prima di tutto non vi devo presentare né camillo né stefano perché la loro fama li precede ma volevo ringraziarli per il loro dono oggi che ci condividano con noi la loro conoscenza e anche nel loro tempo vorrei anche ringraziare sia l'istituto ma anche la consorzio urbs che rende possibile in maniera tangibile questa giornata e lo staff dell'istituto e soprattutto lo staff della biblioteca angelo coccarelli e diana giofre che è appena andata uscita un caveat oggi sarò molto severa con voi perché abbiamo una tabella di marcia abbastanza fitta quindi ogni tanto vi dirò di ritornare ai vostri posti se volete c'è la stanzetta con il caffè quindi potete prendere caffè acqua succhi durante la mattinata quando volete insomma non dovete necessariamente aspettare un break oggi parliamo degli autori autori nel nostro catalogo che mi viene in mente poi una famosa frase di un autore italiano gli esami non finiscono mai e questo forse è abbastanza appropriato oggi anche se non avremo un esame certo dobbiamo imparare cose nuove il nostro ambiente è piena di cose che cambiano tutti i giorni e sinceramente io penso che insieme con l'ambiente medico il nostro è un ambiente che veramente è subito o subito oppure si è dato benvenuto a molte nuove tecnologie oggi cerchiamo di capire quale rilevanza wikidata può avere per le nostre biblioteche e le nostre biblioteche per wikidata stefano dice sempre dobbiamo non catalogare ma catalogare anche noi in un certo senso come come biblioteche perché non è necessario che facciamo parte della stessa biblioteca lo stesso consorzio e neanche dello stesso paese ma possiamo legarci insieme attraverso le nuove tecnologie come wikidata questo ci porta anche avere nuove sfide ma anche forse insieme nuovi progetti che queste nuove tecnologie ci possono dare quindi io mi auguro che alla fine di questa giornata possiamo vedere come possiamo legarci come biblioteche come progetti di più ecco adesso passo la parola a stefano e a camillo bene allora sì dunque buongiorno allora oggi come sapete il programma abbiamo anche un mouse gigante che ci aiuterà a vedere quello che facciamo oggi il programma prevede più o meno questi passi che vedete qui nella sezione materiali cioè la preparazione del vostro account per modificare wikidata nel modo più confortevole ed efficiente possibile e poi diciamo addestramento all'uso di mix e match che è il principale strumento che usiamo per abbinare gli autori ma potenzialmente potremmo dire anche non soltanto gli autori persone ma in un futuro più o meno lontano ma anche potenzialmente molto vicino luoghi o autori enti o quant'altro poi appunto vedremo come è strutturato un elemento di wikidata cosa che più o meno avevamo già visto credo anche anche l'altra volta quindi lo vedremo magari un po più velocemente poi appunto come modificare voi un elemento e infine come creare nuovi elementi quindi diciamo una panoramica completa di come gestire gli autori all'interno di wikidata ora il primo punto è legato al fatto di preparare il vostro account e qui ci sono delle istruzioni in cui adesso entriamo prima di tutto io vi direi di tirar fuori i vostri computer se ce li avete perché appunto lo scopo sarebbe anche il fatto di lavorare a livello pratico su wikidata e di recarvi in questa pagina ora siccome questa pagina ha un url molto lungo che è quello che vedete qui in cima peraltro molto in piccolo abbiamo appuntato questo url breve che vedete qui che dovreste essere capaci di riprodurre sul vostro computer digitandolo nella barra dell'indirizzo con molta facilità che v punto cioè w punto wiki barra 4 u maiuscolo r maiuscolo y maiuscolo digitando questo se lo è indirizzati a questa pagina quindi il primo passo è raggiungere questa pagina col vostro computer e tenerla aperta per tutta la mattinata proprio tenerla lì ferma e aperta quando ci siamo tutti passiamo al punto successivo stefano se vuoi puoi non so se vuoi trasmigrare qui a fianco a me ora in teoria noi possiamo anche girare per aiutare le persone che che hanno qualunque tipo di problema non so alzate la mano manifestate qualunque tipo di problema e noi veniamo ad aiutarvi a raggiungere questa pagina io vi direi tramite l'url breve stefano constati che funziona tu ci stai provando funziona no se arrivate di un altro punto 2.wiki barra 4 u maiuscolo r maiuscolo y maiuscolo hai usato y minuscola no scusa hai no perché ti ha redatto il completamento automatico su y minuscolo devi forzarlo ispiro si vede anche qua y maiuscolo no allora aspetta tra i programma prenderlo, copiarlo e incollarlo. Bruttale. Allora, dunque, possiamo dirvi con piacere che dovremmo avervi tutti più o meno al punto giusto, cioè abbiamo completato il punto 1 in orario sulla tabella di marcia che credo prevedesse di finirlo alle 10, penso. Quindi è un ottimo risultato che non era scontato, quindi bene. A questo punto passiamo agli aspetti in cui effettivamente una volta impostato il vostro account nel modo migliore, anche se non sapete cosa avete fatto, ma gradualmente lo capirete, possiamo passare al punto 2, e cioè vedere come si lavora su mix and match. Allora, se adesso io intanto vi mostro qualcosa, magari al momento non fate niente, seguite me e poi cominciate a lavorare voi. Allora, se io scendo leggermente più giù, in questa pagina, arrivo nella sezione cataloghi. In questa sezione cataloghi c'è una lista dei cataloghi di biblioteche romane che usano COA, una lista generata automaticamente in un modo, usando una query che è questa, ma questo non importa che lo sappiate, e vedete per ogni, per ogni, per ognuna di queste proprietà, per ognuna di questi cataloghi, vedete il nome in inglese, il nome in italiano, vabbè questo non è troppo interessante, e vedete un link mix and match con un numerino. Per la Pontificia Università della Santa Croce ne vedete due, perché ci sono due cataloghi diversi, uno per le persone e uno per le organizzazioni, per gli enti, visto che abbiamo cominciato a provare anche a lavorare sugli enti. Per tutti gli altri vedete un link solo, perché al momento abbiamo cominciato a lavorare solo sulle persone. Se non vedete la vostra biblioteca è perché non abbiamo ancora cominciato a lavorarci per qualche motivo, ma questo non vuol dire che magari in futuro non possiamo cominciare a lavorarci, e ne possiamo parlare anche nelle pause e vedere come procedere. Al momento queste sono quelle che abbiamo a disposizione, poi ovviamente ce ne sono anche altre che non sono di Roma, che non sono, però appunto, intanto noi abbiamo a disposizione questa. Adesso noi proviamo ad entrare nel catalogo di Urbs, questo qua in fondo, che io, attenzione, allora, che io apro in un'altra scheda, visto che mi tengo sempre questa aperta, che è una cosa buona. A questo punto si carica mix and match. La prima cosa che mix and match vi chiederà, questo, poi sarà la prima cosa che dovrete fare. Vedrete che qua in cima, adesso l'interfaccia di mix and match la potete facilmente settare in italiano e in inglese, adesso noi ce l'abbiamo in italiano, ma potete anche settarla su varie altre lingue, teniamola in italiano. Vedete che qui in cima c'è scritto file login con WIDAR per modificare, quindi se io clicco su WIDAR, entra qui, potrebbe richiedervi di inserire nome utente e password, non è detto che lo faccia, se ve lo chiede inserite nome utente e password, e poi soprattutto cliccate qui su allow blue. A questo punto lui vi ricarica mix and match, però ve lo ricarica sulla pagina principale purtroppo, dicendovi benvenuto seguito dal vostro nome. Voi tornate indietro nel browser e ritornate sul catalogo di URBS, diciamo, e vedete che nel ritornarci sopra stavolta avete questo. Quando siete a questo punto sarete pronti per lavorare su qualunque catalogo si tratti, diciamo che siamo sul catalogo di URBS. A questo punto, poi adesso, questo poi vi seguiremo che lo facciate, il login con WIDAR. Il login con WIDAR è premessa per interagire con mix and match, altrimenti mix and match non vi riconosce e non vi lascia interagire. Però adesso dobbiamo spiegare che cosa serve mix and match, che cosa serve, magari visto che parlo per un po' posso togliere la mascherina. Allora, che cos'è mix and match? Mix and match è uno strumento che esiste dai primi tempi in cui Wikidata esiste, creato da una delle persone che ha sviluppato prima il software su cui gira Wikipedia e poi ha sviluppato mille tool relativi a Wikipedia, Wikidata. È una persona splendida, è un biologo tedesco che lavora nel Regno Unito, Magnus Mansk, e Magnus Mansk tra le altre cose ha sviluppato mix and match, che è un tool, appunto, uno strumento che serve per creare degli abbinamenti tra diversi tipi di cataloghi, cioè di insiemi di entry, insiemi di entità accomunate da qualcosa, che so, tutte le entry degli attori presenti in Internet Movie Database, tutte le schede di autorità presenti in un determinato catalogo di una biblioteca nazionale o di un insieme di biblioteche o anche di una singola biblioteca, oppure tutti i funghi catalogati in un determinato catalogo biologico e così via. Cioè c'è un'estrema varietà di cose. Quindi appunto mix and match funziona per cataloghi. Voi vedete che sono su, se voi andate sulla pagina principale di mix and match che si raggiunge qui dal, cliccando sul logo di mix and match, cioè cliccando sul nome di mix and match, in realtà vedete che qui avete cataloghi recenti, avete i cataloghi caricati più di recente, qui sulla sinistra avete i cataloghi raggruppati più o meno per argomento, sotto avete i cataloghi raggruppati per argomento in un modo diverso e poi non avete molto altro, insomma poi è una pagina molto lunga, i cataloghi di mix and match sono ormai 3.000 e qualcosa direi, forse anche 4.000. Non c'è un catalogo di mix and match per ogni proprietà di Wikidata, però, cioè per ogni identificativo presente in Wikidata, ma tendenzialmente, potenzialmente ci potrebbe essere, diciamo. Quindi noi abbiamo un singolo catalogo. Questo catalogo è stato creato a un certo punto da una persona, in questo caso la persona alla mia sinistra, una persona che ha, diciamo, che è riuscita in qualche modo ad ottenere i dati fondamentali di queste entry e a metterli in una forma tale che mix and match li potesse ricevere. Questa non è un'operazione facilissima che io stesso tendenzialmente non saprei fare, ma siccome abbiamo una persona che lo sa fare, basta che voi diate i dati a questa persona, o semplicemente, o addirittura che questa persona se li prenda in qualche modo e li carica dentro mix and match. Quindi appunto il caricamento di un catalogo di mix and match nuovo non è un vostro problema, è un problema di Stefano. A questo punto, una volta che il catalogo esiste, noi siamo al punto dell'utente che trova il catalogo e dice che bello, c'è un catalogo degli autori di Urbs. Qui non c'è scritto, ma sono solo le persone. Potenzialmente potremmo caricare anche le organizzazioni o i luoghi e quant'altro. Vedete che questi elemmi, quelli che in inglese chiama entries, sono divisi in cinque righine, qui c'è un totale, sono divisi in cinque righine, dove quella centrale, no wikidata, è un residuo del passato che non ci interessa. Questa qui serviva, detto in breve, per dire questa entry non esiste su wikidata, ma merita di essere creata, però non ho voglia di farlo io al momento. Si è deciso che questa non serviva più, quindi adesso non si usa più, resta come residuo del passato. Quindi quelle che ci interessano sono le altre quattro. Questa qui sta lì per bellezza. Allora, e ci interessano le altre quattro che sono abbinati manualmente, abbinati automaticamente, non applicabili a wikidata e non abbinato. Adesso spieghiamo cosa vogliono dire. Gli abbinati manualmente sono i lemmi, le entry, che o tramite un abbinamento automatico, fatto perché ad esempio Mix & Match fa un abbinamento automatico in alcuni casi per dire. Se la vostra entry contiene un VIAF e quel VIAF è presente in wikidata, Mix & Match la abbina perché è sicuro. Oppure, se la vostra entry ha un nome presente in wikidata e lo stesso anno di nascita e lo stesso anno di morte, Mix & Match anche in questo caso si ritiene sicuro, con una percentuale di errore credo minima, e anche lì abbina. Se invece la vostra entry, ad esempio, ha solo l'anno di nascita, allora Mix & Match non si fida e quindi non finirà automaticamente qui, ma finirà qui. Se ad esempio voi avete anno di nascita e nome uguale ad una cosa presente in wikidata che ha lo stesso anno di nascita e lo stesso nome, Mix & Match dirà questo abbinamento è probabile, quindi io faccio un abbinamento automatico che finisce qua, e poi un umano deve verificare che quell'abbinamento sia corretto. Quindi, banalmente, se io entro negli abbinati automaticamente, cosa vedo? Vedo una serie di entry, ampliamo, 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 vedo una serie di entry dove quella verde è il catalogo, quella blu è wikidata, infatti vedete a fianco a quella blu vedete la lettera Q seguita da un numero, questo vi indica che questo qua è un elemento di wikidata, quello sopra, se ci entro, vedete che è la visione mark di un record di autorità di URBS. Ovviamente questo potrebbe essere anche la entry di MDB o la pagina del fungo, cioè, diciamo, è la entry lemma del catalogo esterno. E io devo dire, io utente che sono sugli abbinati automaticamente, devo dire se Asterios Argiriu presente, ah no, l'ho già aperto, scusate, Asterios Argiriu, questo qua, di cui abbiamo un record in questo caso, perché essendo un catalogo di biblioteca possiamo vedere i record. Ecco, qui abbiamo Macario Macrete e la polemica contro l'Islam. A questo punto io cosa faccio? Come capisco se Asterio Argiriu è lo stesso Asterio Argiriu che c'è qua? Beh, ad occhio e croce è lo stesso, teologo, insomma. Però io ci entro dentro per estrema sicurezza, cioè, comunque è sempre meglio assicurarsi, non si sa mai, e di solito cosa faccio? Vado dentro il VIAF, cerco il VIAF, allora, cerco il VIAF, e vedo dentro il VIAF se quella stessa opera compare. Questo è il modo migliore di solito per capire se la persona è la stessa trattandosi di cataloghi di biblioteche. Quindi, Macario Macrete sta qua. Adesso voi lo vedrete poco, però, Macer Macresse è la polemica contro l'Islam, ce l'abbiamo. A questo punto io torno qui e dico, l'abbinamento, ok, sì, conferma, confermo. L'abbinamento viene fatto in questo caso da Bargioni, che è l'utente che è stato, che in questo momento sta usando Mix&Match e che Mix&Match riconosce. Se io torno, quindi, se io ricarico l'elemento di Asterio-Argiriu, se io lo ricarico, troverò, troverò qui, identificativo, vabbè, l'ordinamento, scusate, dove me l'ha messo in cima. Sì, ma questo è l'ordinamento che ha scelto Stefano in un modo particolare. A voi comparirà in fondo. Vedete, l'identificativo URBS, questo qui, se io vado nella cronologia, volendo, la cronologia è quella quella funzione che permette di vedere come si è evoluto un elemento nel corso del tempo, vedete che il 30 novembre, alle ore 9.16, perché va su UTC, va sull'ora di Londra, ecco, 9.16, Bargioni ha creato un'asserzione identificativo URBS numero tale, usando Mix&Match 1.0. E quindi, appunto, l'identificativo viene aggiunto e al tempo stesso, se io ricarico questa pagina, ovviamente a stereo Agiriu non c'è più, infatti vedrete che adesso non c'è più, infatti passa in cima a questo, perché è passato dagli abbinati automaticamente agli abbinati manualmente, passa al verde. Il verde è quello in cui, in teoria, non bisogna far più niente, cioè, il verde, a meno che una persona non abbia compiuto un errore, che insomma si spera che sia un avvenimento raro, il verde è a posto, uno non ci entra, cioè lo guarda e dice che bello, ci sono così tanti verdi e non fa altro. Adesso, vabbè, l'aggiorna, aggiorna, serve per vedere i numeri precisi, perché ogni tanto i numeri si sballano, non è un problema, comunque adesso abbiamo, abbiamo in teoria un verde in più e un blu chiaro in meno. Quindi, in breve, quali sono i punti su cui io lavoro? I punti su cui io lavoro quando sono su Mix&Match sono al momento, no, anzi, sono in generale due, sono appunto gli abbinati automaticamente che sono quelli in cui io devo verificare che l'abbigliamento sia corretto o non corretto. Se è corretto, la entry passa sopra, cioè passa a ciò che è a posto. Se non è corretto, la entry passa sotto, ai non abbinati, cioè quelli in cui, verosimilmente, anche se non è detto, Wikidata non ha già un elemento e quindi io lo potrò creare. A meno che, invece, l'elemento di Wikidata non ci sia, ma magari ha un nome leggermente diverso, perché nome da, cognome da sposato, non da sposato, entrambi insieme, uno solo, non si sa mai. Doppi nomi, nomi diversi, nomi tradotti per autori medievali, il santo con info, cioè, santo con o senza santa all'inizio, che so, ci sono una serie di variabili per cui magari. Però, diciamo, a livello generale, con molta cautela, si può dire che in generale i non abbinati sono quei casi in cui bisogna creare l'elemento ex novo. Siccome è più complesso, ne parleremo dopo. Quindi, quello che adesso tendenzialmente dovreste fare è esercitarvi sugli abbinamenti automatici e confermare o rimuovere un po' gli abbinamenti, giusto? Non è che sia questa grande cosa difficile, cioè, veramente, è cliccare, conferma o rimuovi, però, diciamo, la parte difficile sta nel capire se bisogna cliccare e conferma o rimuovi, non tanto nel cliccare e conferma o rimuovi. Per evitare che vi incrociate sul medesimo catalogo, magari cercate, visto che abbiamo, qui vedete, abbiamo tutti i cataloghi diversi, magari cercate di lavorare su cataloghi diversi per non incrociarvi, quindi, se avete un vostro catalogo tendenzialmente lavorate sul vostro. Non so, cerchiamo di manifestare diversi tavoli. Allora, qui è Urbis, lì, che cos'è? Aspetta, che cos'è? Icrom? No. Allora, potrebbe fare quello di archeologia cristiana. Ecco, archeologia cristiana va bene? Ecco, perfetto, archeologia cristiana. Laggiù, che cos'è? Serce? Serce, buono. La? Michele e Alberto stanno a Santa Croce. Santa Croce, buono, lì? Svedese? American Academy è qui. Santa Croce insieme, Santa Croce in fondo, top. Stefano, mi senti? Eh, vabbè. Un giorno ce la faremo. Ok, e qui? Loro vanno, esattamente. Io qui, custodia di Terra Santa, non so se volete. Va bene, qualcosa. Oppure, ok, anche le colbi, sì, le colbi bichie non è interessante, adesso lo possiamo trovare. Però io ne lo mettiamo. Sì, in realtà, meglio le colbi bichie. Sì, vabbè, allora ne ho troppo. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, Stefano, ti disattivo un attimo gli elementi compatti, così non disorientiamo le persone, poi te lo riattivi dopo, perché se no, se no disorientiamo le persone. Ma infatti appunto, sai perché l'ho fatto mettere nelle preferenze? Così era più facile attivare e disattivare. Detto molto biecamente, è appunto. Anche, anche. Quello penso, ci pensavo meno, però, perché io non sono mai loggato su mobile, però, no, no, no. Ok, no, ma ci credo. Allora, beh, siamo tornati, più o meno anche direi nei numeri di prima, quindi, allora, abbiamo fatto la fase 2, adesso passiamo alla fase 3, che è una fase in cui parlo esclusivamente io, perché questa è una fase, diciamo, di spiegazione, che in realtà, in qualche modo, duplica la spiegazione che ho fatto qualche tempo fa nell'Accademia qui a fianco, non so la direzione forse di là, ok, cioè, alla scorsa riunione, quando abbiamo mostrato come è fatto un elemento, adesso lo rimostriamo brevemente, visto che poi la fase successiva è che voi modifichiate elementi, quindi, appunto, è giusto anche sapere come è fatto un elemento. Ora, un po' l'avrete già intravisto. adesso noi entriamo in un elemento che è questo esichio di Gerusalemme. Ora, la visione di Stefano, al di là che ho cercato di disattivargli qualcosina, presenta una serie di cose che forse voi non avrete, ma cercate di non farci troppo caso. La visione che avete dovrebbe essere più o meno simile a quella che avete anche voi. Allora, come è fatto un elemento? Le diverse parti di un elemento sono, io dico sempre, sono quattro, e adesso cerchiamo di vedere, sono abbastanza intuitive, ma le vediamo. Allora, l'elemento si presenta in questo modo, nell'indirizzo, che vedete molto, ma molto piccolo, no, forse neanche troppo, vedete wikidata.org slash wiki slash lettera Q seguita da un numero. avrete già intuito che gli elementi di wikidata si identificano con quella Q seguita da un numero, che è un codice, in qualche modo, indipendente dalla lingua, per far sì che poi, appunto, l'amnesima entità, che in questo caso è una persona, ma che potrebbe essere anche un concetto, perché su wikidata abbiamo anche gli elementi per i concetti, cioè se io cerco casa, vedete che mi esce, tra le altre cose, il primo elemento è l'elemento casa, in quanto concetto, quindi appunto, a wikidata si possono connettere anche i vocaboli, volare i controllati, tra parentesi, beh, lo diciamo, poi chiudiamo la parentesi, se no andiamo fuori strada, ma si possono fare tante cose. Ecco, su wikidata un concetto che sia persona, ente, concetto astratto, luogo, quant'altro, si può descrivere in diverse lingue, quindi appunto, l'identificativo è indipendente dalla lingua, ed è la Q seguita da un numero, mentre la prima parte dell'elemento è appunto la descrizione minimale dell'entità in diverse lingue, una descrizione che si compone di tre colonne, etichetta, descrizione e, anche conosciuto come, cioè l'alias, divisi nelle diverse lingue, qui ne vedete alcune, queste lingue, che in questo caso, nel caso di Stefano, che sono anche, no, io in più ho anche il portoghese, ma, diciamo, queste lingue si impostano in un modo che non abbiamo mostrato, ma che magari veniamo a mostrarvi singolarmente, però appunto c'è un modo per decidere quali lingue appaiono qui e quali no, quelle che non appaiono comunque le potete tirar fuori con tutte le lingue inserite, e vengono fuori anche le altre. Queste qui sono solo le lingue già inserite, e poi se ne possono inserire ancora altre, cioè, ad esempio, qui non c'è, che so, l'Ucraino, ma si può inserire l'Ucraino, si può inserire il greco antico, che qui non è stato inserito, per un autore greco antico, inserire il greco antico sarebbe anche sensato, si possono inserire altre lingue ancora oltre a queste, anche per quello, c'è un metodo, se vi interessa si può mostrare anche quello, però ecco, diciamo, comunque, le lingue che voi visualizzate di preferenza, cioè, senza andare a cliccare su tutte le lingue inserite, si scelgono in un certo modo che possiamo mostrare, siccome non lo ritengo fondamentale, per oggi, diciamo, non lo mostriamo a Erga Omnes, ma non è difficile, comunque ci sono dei video online in cui lo spieghiamo, insomma, non è nulla di arcano. Ecco, vedete quindi, le tre colonne, etichetta, descrizione e alias, dove l'etichetta sarebbe la forma del nome preferita, quella che è adesso, qualcosa comincio a capire, cos'è il 100 nel Mark 21 e il 200 nell'Unimark, questa sarebbe l'etichetta, mentre anche conosciuto come, sono le forme alternative del nome, quindi mi pare il 400 in entrambi, forse addirittura, penso il 400 in entrambi, credo, sono le forme alternative del nome, cioè appunto le forme, le forme che sono attestate da qualche fonte, o comunque insomma hanno una qualche dignità di esistere, ma che riteniamo in qualche modo non preferibili rispetto a quella che scegliamo come preferibile. Il fatto che poi queste forme comunque hanno tutte uguale dignità in qualche modo, cioè se io uso un'etichetta in una lingua diversa dalla mia lingua dell'interfaccio, se anche io uso un alias in una lingua qualunque, risalgo comunque a questa persona, quindi come vedete questo è importante. La ricerca è molto importante. Esattamente, quindi la ricerca funziona in ogni caso. La descrizione, ops, l'ho nascosto, vai. Sì? Nella forma diretta, nella forma diretta. Sì, esattamente. Lo mostriamo anche su... No, no, forma diretta, questo è importante. Hai ragione. Adesso lo volevo mostrare anche su un autore moderno. Scusate per il delay. Allora, ecco qua. Teniamoli aperti entrambi che può essere utile. Autore moderno, Domenico Comparetti, anche qui, ecco, vedete. Qua si vede chiaramente. Forma diretta, sempre e comunque mai usare la forma inversa, mi raccomando. La forma inversa non viene considerata in liquidata come un sufficiente alias. No, no. Non usatela neanche come... Non usatela neanche qui. Non usatela neanche qui. Alla fine la ricerca avviene lo stesso perché le parole, anche se sono in condizione diversa, si riesce a arrivare. Mostriamo che se io cerco Comparetti Domenico... Ah, mannaggia, le tastiere, scusate. Se io cerco Comparetti Domenico, mi viene come primo risultato lui. Quindi comunque vale lo stesso, esattamente. Cioè il sistema è sufficientemente intelligente da capirlo. La descrizione invece... Ecco, la descrizione... Il tag del Marche, in cui ti sfido. Eh, allora, qui sul tag del Marche della descrizione c'è un 378, è Marche 21, giusto? Marche 21. E 378 forse. 300. No, 300. Giusto? 300 Unimark, boh, forse sì. Quale sarebbe più adatto l'Unimark per descrizione di un autore, appunto, per dire semplicemente filosofo, classico, unologo classico? Ah, un sottocampo di 200. Volevo vedere... 200D. Scusate. Comunque ci capiamo. Ritroviamo in qualche modo alcuni concetti in quella fascia lì, che sono concetti di individuazione, tutto sommato, a parte le date, o di descrizione minima. Sì, SBN usa il 300, Unimark 300, dovrebbe essere la descrizione, pare. Sì, ma comunque sia. Comunque, va bene. Ecco. Non è che il parallelismo deve essere stretto, l'importante è avere capito, diciamo... Sì. Si tende a mettere delle descrizioni, come tu sicuramente stavi per dire, molto semplici. Molto semplici, sì, sì, sì. Non bisogna elencare troppe cose, non c'è bisogno di fare un riassuntino. No, no, cioè proprio in generale... Non è che possa essere come una piccola, una cosa che si associa al nome, come qui è ben scritto. Sì, molto facile. Io dico con Paretti, filosofo classico italiano, date. Date, basta, sì, sì, sì. È molto individuante, è preciso, aiuta tantissimo già questo. Occupa, sì. Perché noi dobbiamo tenere molto presente il fatto che i dati di data sono molto riusabili, molto riusati. Sì. E quindi anche costruendo un nuovo autore, questo verrà poi utile, con questo criterio diciamo un po' compatto, semplice e chiaro, che verrà molto utile altrove. Quindi appunto, sì, per le persone moderne, che poi sono quelle che si trattano di più, di solito si mette occupazione, nazionalità, date, punto. Quindi senza il punto in fondo, mi raccomando. Niente punto in fondo. E neanche la maiuscola in testa. E neanche la maiuscola in testa, mi raccomando. Minuscola qui e niente punto in fondo. Fondamentale. Cioè, fondamentale, insomma. Questione di formattazione importante. Ci sono raccomandazioni, ecco. Non è che... Wikidata non è che ti vinca fino al punto della toglierti dall'account. No, però... No, ecco, sì, sì, sì. Libera e quindi... Però un po' di raccomandazioni ci sono. Gli usi delle lingue nando, perché ho visto Italian. Sì? Certo. Ah beh, certo. Cioè, se la lingua richiede la maiuscola, si usa la maiuscola, è chiaro. Sì, tedesco. Ma anche Christian, che so, Christian in inglese va a maiuscole, quindi si mette maiuscole. È una lezione a riguardo per l'italiano. Chiaro. Sì, sì, sì. Poi, appunto, ripeto, si segue l'uso della lingua, tipo in tedesco, i nomi propri vanno... Cioè, i nomi comuni vanno a maiuscole, quindi si usa la maiuscola e così via. Se avete bisogno di riusare dati in kidata in cui avete bisogno di una descrizione in lingua diversa, siete liberissimi di aggiungerla dentro un kidata. Ah certo, assolutamente. Lingue diverse si possono aggiungere. Ecco, poi, appunto, questa è la selezione di lingue che ha messo Stefano. Io ho anche il portoghese in più, che comunque non parlo, però mi interessava avercelo. Ma si possono usare anche... Si può avere una selezione di lingue diverse, se vi interessa l'arabo, il russo o lingue particolari, si possono mettere. Questo non è un problema. Quindi, la prima parte dell'elemento sono etichette, descrizioni e alias. Bene, semplice. La seconda parte dell'elemento, questo qua è mix and match che, diciamo, entra tra noi, anche dentro wikidata, con una consultazione di tipo diverso. Cioè, se io uso mix and match come strumento andandoci sopra, io lo consulto per catalogo. Invece qui io lo consulto per entità. Cioè, lui mi dice tutte le entità, tutte le entry, diversi cataloghi abbinate con sicurezza o in modo automatico, quindi da confermare o rimuovere, a quella entry. E quindi, appunto, in questo caso tutte sono già state confermate, quindi non devo fare niente. Passo oltre. Passo, 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 passo. Passo, arriviamo qui. Ora qui, non badate le cose rosse perché le ha aggiunte Stefano. Cioè, se... Ah, bravo. Si può rimuovere. Vedo, bellissimo, giusto. E quindi non ci badate proprio perché le abbiamo rimosse, però appunto, poi se vi interessano Stefano ve le aggiunge, cioè ve le facciamo aggiungere, però appunto... Un passo in più. Sì, va bene. Può essere utile, può anche... Appunto. Quindi abbiamo la seconda parte dell'elemento che sono le dichiarazioni. Le dichiarazioni sono una delle parti fondamentali dell'elemento, cioè i dati strutturati. Molto semplice. Io strutturo i dati relativi alla persona in un modo che sia leggibile dalla macchina, traducibile in modo automatico, perché se io qui cambio la lingua dell'interfaccia all'inglese, mi si traduce tutto in inglese. Se io la cambio al francese, mi si traduce tutto in francese e così via. Perché appunto il bello di avere questa cosa strutturata è che si può tradurre in modo sostanzialmente automatico e che si può anche interrogare con un linguaggio di interrogazione per dirmi tutti gli autori maschi nel mio catalogo connessi a Wikidata. Tutti gli autori femmine del mio catalogo connessi a Wikidata. Conteggio maschi femmine. Tutti gli autori femmine del mio catalogo connessi a Wikidata e che in Wikidata hanno anche il servizio bibliotecare nazionale italiano e così via. Cioè si possono fare poi delle query che incrociano diversi dati per avere informazioni di vario tipo. Insomma è una cosa carina. Su Wikidata quindi si inseriscono queste informazioni strutturate. Questa è una cosa leggermente più avanzata, però ecco, in alcuni casi Wikidata, cioè quando serve, permette di registrare contrasti tra fonti, dando anche una gerarchia al dato che per qualche motivo riteniamo migliore, perché è più preciso, perché è supportato dalle fonti più attendibili e così via. Quindi il dato più preciso, vedete, ottiene questa classificazione preferita e gli altri hanno classificazione normale. Il fatto che abbiamo il mouse gigante mi permette anche di puntarlo e di essere sicuro che voi lo vediate. Quindi è perfetto. Quindi vedete dati contrastanti sulla data di nascita, luogo di nascita, dati ancora più contrastanti sulla data di morte, per gli autori antichi poi è proprio un disastro. Quindi in questo caso vedete che insomma ci sono contrasti accesi, poi vabbè, sono tutti abbastanza convergenti, però ci sono contrasti accesi, anche qui abbiamo un preferito. Scendiamo, vedete altri dati strutturati, insomma, vedete, li vediamo, li scorriamo. Questa cosa qui che voi avete attivato tra le altre cose poi la vedremo in azione, quindi al momento la saltiamo, come anche questa la saltiamo, poi la vedremo in azione. La terza parte dell'elemento sono gli identificativi che hanno un'apparenza grafica uguale alle dichiarazioni. La differenza è una differenza non tanto appunto di apparenza estetica quanto una differenza logica, cioè le dichiarazioni sono dati fattuali sull'entità descritta, gli identificativi sono la presenza di quell'entità descritta in altri punti di internet. A volte anche, ci sono anche raramente identificativi a cose cartacee assenti in internet, ogni tanto li facciamo, cioè possono essere utili, ma il 90% degli identificativi sono tutte cose cliccabili, in cui voi cliccate e potete verificare direttamente se effettivamente quel sito esiste ancora, se effettivamente è giusto che sia connesso a questa pagina e così via. Quindi appunto gli identificativi mi forniscono la presenza della medesima entità, che sia una persona, un ente, un luogo o quant'altro, in altri punti, vabbè lo so anche togliere effettivamente, in altri punti di internet. Il VIAF sta qui in cima, sempre negli elementi, l'ordinamento degli identificativi è più o meno automatico, cioè no, è automatico, lo spieghiamo. Gli identificativi sono ordinati, che hanno prima il VIAF, prima il VIAF, qui vedete che appunto una funzione di Wikidata molto interessante è che nota gli errori altrui, in particolare gli errori di duplicazione, quindi vedete che qua c'è un errore di duplicazione nel VIAF, ma può notare errori di duplicazione anche nei vostri cataloghi, anzi li ha già notati e poi vi mostriamo anche dove, così li potete risolvere, ad alcuni forse è già stato mostrato, poi vedete appunto l'ISNI, dopo VIAF e ISNI ci sono tutti gli altri identificativi presenti nel VIAF, ordinati per il loro codice, quindi tipo la Vaticana è qua perché sarebbe BAV, poi c'è BIBSIS, BLNB, CANTIC, BNE perché viene contata come mi pare, no, ha un codice diverso, ah no, allora no, perché BLNB, poi si, ah forse perché c'è anche il sort tuo, vabbè comunque diciamo ci sono tutti i membri del VIAF ordinati secondo il loro codice dentro il VIAF, l'ultimo dei quali è WorldCat Identities che chiude questa serie, quindi dopo WorldCat ci sono le cose che non sono membri VIAF, ordinate più o meno in ordine alfabetico, diciamo, cioè in ordine più o meno alfabetico per nome, ma adesso è a Regensburg, non so perché sta qua, ma dopo vedete Angelicum, Babel, Biblioteca Iglesia Nazionale Spagnola, e qua vedete anche un po' la varietà degli identificativi, vedete biblioteche, database di vario tipo, questo qua è un database francese di autori cristiani, vedete enciclopedie, vedete un altro database francese di autori classici molto carino, un dizionario biografico francese, una singola biblioteca sempre francese, vedete enciclopedie, una biblioteca che l'ha duplicato, poverino, catalogo collettivo di biblioteche, un'enciclopedia, catalogo di manoscritti, tante belle cose, vedete appunto anche una grande varietà di cose, adesso lo scendiamo fino in fondo, per l'enciclopedia si può addirittura anche indicare dati relativi alla singola voce dell'enciclopedia, vedete si possono indicare in questo modo come qualificatori, cosa interessante, e insomma finiti gli identificativi, si arriva all'ultima parte dell'elemento, che sono i link a Wikipedia e agli altri progetti Wikimedia, fine, e poi l'elemento è finito, qui in fondo vedete c'è la parte finale in cui si dice che tutto è in cc0 e quindi è in pubblico dominio e si può fare il riutilizzo che si vuole, e l'elemento è finito, quindi appunto l'elemento si compone di quattro parti che sono etichetta, dichiarazione e alias, poi al di là di mix and match che compare ci sono le dichiarazioni, cioè i dati fattuali sull'entità descritta, poi ci sono gli identificativi, cioè la presenza dell'entità descritta in altri database di vario tipo, e poi in fondo ci sono i link agli altri progetti Wikimedia, quindi appunto Wikipedia e gli altri li vedete qua. Quindi una volta visto come è strutturato l'elemento, siamo in anticipo di circa un quarto d'ora sulla tabella di marcia, adesso che sapete com'è strutturato, lo potete anche modificare aggiungendo cose. Per cui adesso cosa abbiamo preparato? Siamo al punto 4, passiamo al punto 4 della pagina che spero abbiate sempre aperta, se no tenetela aperta. Il punto 4 è di nuovo un punto pratico, in cui voi modificate degli elementi. Ora noi abbiamo preparato queste query, che vedete qui, che vi forniscono già pronti degli elementi che hanno qualche tipo di carenza che voi cercherete di andare a colmare. Vedete che ci sono otto query, io ho anche inserito qui un tentativo di dire quali sono le persone che se ne sono occupate, ma quello poi me ne occupo io, quindi non vi preoccupate. Ora, noi vi faremo aprire delle query un po' diverse da tavola a tavola, in modo che non vi incrociate, ma credo che abbiamo, insomma, non abbiamo troppe persone con computer, quindi forse sarà anche più facile di quanto pensassi. Adesso mostriamo, vedete, tutte queste query hanno un nome in cui c'è specificato che manca qualcosa, vedete, senza occupazione, oppure vedete dei senza riferimento. Tutte queste query mostrano qualche carenza, sono elementi o legati a URBUS o legati a Search, perché erano i cataloghi più grossi che avevamo, quindi ho pensato di prendere questi. Se io apro, ad esempio, apro la prima query, si apre, viene il logo di Wikidata bello grande per un attimo, poi si apre questa cosa qui, che posso forse anche un pochino ingrandire, ma più o meno la vedete. Allora, vediamo un attimo se ce la faccio ingrandire. Allora, sì, ce la faccio benissimo, benissimo. Dunque, autori moderni, moderni perché vi ho filtrato le cose di autori dal 1700 in poi, perché così era più facile, perché se no quelli prima sempre un po' problematico, invece ho filtrato cose più recenti, quindi ho messo autori moderni di URBS con SBN, quindi con l'identificativo di SBN, e con una data di nascita senza riferimento. Si capisce che in un caso del genere il vostro compito sarà aggiungere un riferimento alla data di nascita, proprio facile. adesso ne apriamo una, apriamo Oreste Raggi. Apriamo Oreste Raggi, Avvocato Italiano 1812-1882. Togliamo questa cosa. Ok. Tendenzialmente io mi apro SBN già pronto, perché, diciamo, ho preso cose con SBN, perché al di là di quanto, diciamo, SBN possa avere dei problemi, però quando c'è, è anche una fonte utile, la prima fonte su cui si può fare affidamento di solito, perché appunto, almeno nei casi in cui c'è, la si usa. Allora, noi abbiamo questo elemento, rimuoviamo queste cose per non far confusione, vediamo com'è l'elemento al momento. Distanza di umano, sesso maschio, queste cose non richiedono riferimento in generale, perché sono abbastanza auto-evidenti. Prenome Oreste, cognome Raggi, anche questo non richiede riferimento, tutto ok. Data di nascita 1812, senza riferimento, Wikidata si lamenta. Quando avete una bandierina, o qualcosa di peggio in generale, perché Wikidata si lamenta che c'è qualcosa che non va, quindi cliccando sul simbolino, il simbolino vi dice qual è il problema, ma di solito il messaggio di errore è comprensibile. Di solito è sempre comprensibile, però se non lo capite, chiedete a qualcuno come me, Stefano, in questo caso in presenza, se no ce lo chiedete in altro modo di interpretarlo, in questo caso è molto chiaro, qui manca il riferimento, qui manca il riferimento, lo vedete. Poi abbiamo avvocato e giornalista, l'occupazione diciamo, è meglio che abbia un riferimento. Lui non si lamenta perché in questo caso lo ritiene meno importante, però se ce l'avete un riferimento pronto, meglio mettercelo anche sull'occupazione. Poi vedete cose che si possono estrarre dal VIAF, tipo il sudoculo posso già estrarre, perché vedete le date coincidono, il nome coincide, io lo estrago, via. E poi vedete gli identificativi. Ora Stefano si mette Urbs in cima per simpatia, però diciamo voi avrete come in cima avrete il VIAF e poi avrete le altre cose, poi a scendere fino in fondo, qua ce ne sono meno ovviamente, ok, perfetto. Ecco ad esempio, a cosa serve questa cosa qui che vedete qua? Adesso parliamo un attimo di questo. Allora Quick Presets, diciamo che voi avete attivato, anche questo senza accorgere, ma l'avete attivato, serve per, diciamo, velocizzare l'inserimento di determinate dichiarazioni. Ad esempio, questa persona, se torniamo qua in cima, la nazionalità appare qui in mezzo, appare prima del prenome e dopo, cioè appare dopo il sesso, prima del prenome. Qui non c'è. È evidente che una persona nata a Milano e morta alla Spezia in questo periodo di tempo, a un certo punto della sua vita è stata cittadina del Regno d'Italia. Quindi, clic, adesso lo dovrebbe prendere, scusate, diamo un attimo, clic più forte, l'ha preso. Ecco, l'ha preso, vedete. Cosa fa? Aggiunge Paesi di Anzianza, Regno d'Italia. Visto così, uno dice cosa è successo, non lo capisce. Se io ricarico l'elemento, adesso lo ricarichiamo, lui ha aggiunto Paesi di Anzianza, Regno d'Italia. Lo vedete? Togliamo di nuovo questi, così non danno confusione. Vedete che l'ha aggiunto. L'alternativa a fare una cosa del genere, qual era? era che io andavo qua su Aggiungi Dichiarazione, scrivevo Paese di Cittadinanza, poi ci scrivo Regno d'Italia, e poi andavo su Pubblica. Questa era l'alternativa lunga. Quick presets, appunto, sono presets, cioè sono dei setting che io mi faccio a priori, perché ritengo che certe cose le inserirò più frequentemente di altre, e quindi mi velocizza il lavoro. Così come che quest'uomo abbia scritto in italiano è abbastanza evidente, quindi italiano, lingua parlato scritta, e anche italiano, lingua di scrittura. Andate. E anche queste poi se io ricarico le vedo. More Identifiers, che anche prima ho usato più velocemente, adesso lo vediamo un attimo, cosa fa? Estrae cose dal VIAF adesso. Noi verifichiamo che quello Resteraggi che vediamo lì sia sempre la stessa persona. Vedete qua ci sono tante opere nel VIAF, e vediamole tutte. Vedete che qui c'è anche il RERO, vedete il RERO sarebbe le biblioteche della Svizzera francese, vedete che qui il RERO c'è, poi c'è anche qua il RERO, quindi vedete coincidenza di opere, per cui stabiliamo che anche il RERO rappresenta la stessa persona, di solito i Cluster VIA sono fatti bene, di solito, però sempre, diciamo, sempre meglio avere un po' di prudenza, in questo caso insomma è evidente che è lui, quindi io gli dico che il RERO è lui, e che Identities, Identities è sempre lui, perché Workout Identities si basa sul Cluster VIA, quindi Identities si può aggiungere senza problemi sempre, salvo quando il Cluster ha dei problemi, quando il Cluster è conflato, cioè quando il Cluster assembla più persone, allora Identities non si aggiunge, ma in altri casi quando il Cluster è sano, Identities si può aggiungere, quindi io o faccio la spunta su entrambi, oppure cosa faccio? Metto la spunta qui e me la aggiungo automaticamente su entrambi, quindi risparmi un click, che fa sempre bene, la spunta qui in cima vuol dire che tutte le cose del Cluster sono sane, si possono aggiungere, poi gli dico AddCheckIdentifiers, lui dice le ho aggiunti, ricarico la pagina per vedere l'effetto, e vedete che il RERO appare qui nelle cose del, appare nei membri del VIAF correttamente, adesso si è spostato, scusate, lo riprendiamo, calma, qui, ecco si è messo qua, vedete, con riferimento a, io l'ho estratto dal VIAF, in particolare da questo singolo Cluster VIAF, in data 30 novembre, quindi mi dà, mi dà anche un attracciamento di quando e come io l'ho estratto dal VIAF, quindi già che c'ero, io ho aggiunto delle cose, ho aggiunto alcuni identificativi del VIAF che non c'erano, ho aggiunto che era cittadino del Regno d'Italia, ho aggiunto che parlava e scriveva in italiano, però non ho ancora messo un riferimento a queste, a queste simpatiche date di nascita e di morte, e peraltro SBN mi dà anche altri due dati interessanti, nato a Milano, morto alla Spezia, anche questi li posso aggiungere, quindi intanto me li copio anche per velocità, anche qui ci sono due vie, la via lunga è, aggiungi dichiarazione, luogo di nascita, incolla Milano, e pubblica, facciamo, non è neanche che sia così lunga, però insomma, la via più breve è usare Quick Presets, quindi vedete che io ho già pronto luogo di morte qua, e anche luogo di nascita, seleziono la Spezia, gli do un click abbastanza forte e imperioso sulla spunta, che a volte è un po' dura, quindi dovete, ecco, stavolta l'ha presa, vedete, add luogo di morte la Spezia, a questo punto lo ricaricate, e vedete che in entrambi i casi ha aggiunto la stessa cosa, ha aggiunto luogo di nascita Milano, luogo di morte la Spezia. Ora si lamenta ancora di più, perché dice, mi hai aggiunto altre due cose, anche questa senza riferimento, e giustamente lui si lamenta, perché le cose su cui vuole proprio riferimento in modo imperioso sono date il luogo di nascita, date il luogo di morte. A questo punto cosa faccio? Io tutte queste informazioni, compreso il fatto che era avvocato e giornalista, no, cosa dice SBN? Avvocato lo dice, giornalista lo dice meno, quindi giornalista lo toglierei, invece dice biografo, quindi giornalista no, biografo sì, meglio, modifica pubblica, meglio, dice anche erudito peraltro, erudito è un'occupazione plausibile, erudito, via, messa, lo dice SBN, lo possiamo dire anche noi, accidenti. A questo punto ricarichiamo, vedete tutto, tutto bello, abbiamo messo tutto, adesso andiamo su SBN, andiamo a prenderci SBN, che è la nostra fonte, voi avete attivato anche questa cosina qua, la vedete, copy this as ref diventa verde, mi dà messaggio di copia del riferimento, torno su, incolla su, erudito, biografo, vedete che ogni volta diventa rosso e mi dà messaggio di ok, la spezia, 82, Milano, 12, altre cose non servono, cioè Oreste Raggi, cioè insomma è evidente che il prenome Oreste e cognome Raggi. Per vedere l'effetto di tutto ciò, come ci consiglia il messaggio, ricarichiamo ancora una volta la pagina, ricaricare la pagina è una cosa che si fa spesso, quindi vi invito anche a conoscere qual è il modo, su Windows di solito F5, non so sui vostri computer se avete tastiere strane, se avete Mac, non lo so, però vi invito a conoscere quale sia il tasto che fa, aggiorna la pagina, perché è una cosa utile, e vedete, aggiunto su tutti, che la fonte dell'affermazione, togliamoci questo rosso che fa sempre un po' di confusione, fonte dell'affermazione è OPAC SBN, fonte precisa è l'identificativo singolo consultato oggi su ogni singolo pezzettino, questa è anche una cosa molto carina, perché permette una grande precisione, spesso negli authority file c'è fonte, cioè in fondo fonte consultata XYZ, magari ce ne sono più di una, e uno poi non sa ricondurre alla singola fonte la singola informazione, che so, magari ci sono tre fonti consultate, e non si sa da quale hai preso l'età di nascita, da quale hai preso l'occupazione, dalla quale hai preso che cosa, su Wikidata ogni singolo pezzettino può avere una o più fonti, io posso anche mettere più di una fonte sullo stesso punto, ed è verificabile, perché specie se la fonte è un sito internet, cosa che di solito è, ma si possono usare come fonti anche cose cartacee, è più complesso ma si può fare, oggi non lo vedremo, però si può fare, oggi vi insegniamo il metodo facile, cioè usare come fonte un altro authority file, o comunque un'enciclopedia online, un dizionario biografico, che sono tutti identificativi, la cosa bella è che appunto io ho l'identificativo qua sotto, ogni identificativo, salvo il via folismi che è voluto, perché diciamo sono sostanzialmente aggregatore, quindi ve lo impediamo, proprio, fattuale, ve lo impediamo, vi costringiamo a usare, diciamo, gli authority file veri e propri, ecco, ognuno di questi si può usare come riferimento, io lo porto su, lo vado a incollare dove mi serve, e così appunto ho referenziato tutto, infatti adesso, io ho referenziato tra le altre cose anche la data di nascita, che era la cosa che mi chiedeva la query, una volta che ho referenziato la data di nascita, questo elemento scompare dalla query, se io la aggiorno, può metterci un po' di tempo a seconda dei tempi di aggiornamento, ma tendenzialmente in un tempo relativamente breve, la query si aggiorna e Oreste Raggi scompare dalla query, il che è corretto, perché Oreste Raggi che era qui in mezzo non c'è più, e quindi ho risolto un punto, ne restano altri, ne restano altri, a questo punto la palla passa a voi, alle 11.45, quindi siamo esattamente sul minuto preciso, e sta tornando tutto perfettamente, è una cosa bellissima, adesso bisogna solo capire su quali query lavorate, quindi cerchiamo di spartire velocemente tra i tavoli, cosa che adesso cerchiamo di fare, dunque, tavolo 1, query 1, tavolo 2, query 2, no, aspetta, tavolo 2, query 2, e i Chrome, quindi cosa vuoi farci? aspetta, ecco appunto, quindi tavolo 2, query 2, tavolo, anzi no, aspetta, perché qua, là c'è i search, quindi se qua l'essere c'è tavolo, tavolo là in fondo, query 2, tavolo lì, query 3, tavolo in fondo, 4, sì, 5, 6, 7, lì abbiamo risolto il problema, ah davvero, perfetto, quindi 8 e qua vengo io, ne facciamo un'altra ex novo, perfetto, quindi, ma anche lì adesso magari vengo a fare una cosa, di sì. Allora, adesso... Per quelli online, andiamo a pranzo. Finora sta andando tutto molto bene. Dopo pranzo, l'ultima parte, cioè creazione di un nuovo elemento. Grazie. Allora... Allora, l'elemento più o meno esisteva già, bisognava solo aggiungere poche cose. Al punto 5 l'elemento ce lo costruiamo noi da zero. Allora, a questo fine abbiamo qui in fondo, ecco, sotto il paragrafo query, abbiamo il paragrafo cataloghi e nel paragrafo cataloghi vedete i link a diversi cataloghi di mix and match, corrispondenti appunto alle biblioteche che abbiamo finora, biblioteche sempre di core, romane, eccetera. Allora, in realtà sono gli stessi link ai cataloghi che abbiamo usato anche prima nella fase di abbinamento, solo che adesso ci occuperemo di elementi da creare. Allora, a tal fine prendiamo il solito catalogo di urbs e vedete qui il catalogo di urbs. Ci siamo occupati degli abbinati automaticamente, adesso ci occupiamo dei non abbinati, dentro i quali quindi entriamo. Allora, i non abbinati sono una categoria di cose che si sono non abbinate o perché il nome aveva qualche problemino e quindi magari interferiva con il nome preciso in wikidata, tipo questo, questo such potrebbe aver interferito. Non so, non è detto però, se io provo a fare la ricerca in wikidata togliendo such, non escluderei che venga fuori. E, appunto, vediamo un attimo. Qui c'è scritto che è un sacerdote canonico, beh, insomma, ci andiamo vicino. Vediamo un po', e la Vaticana dice che è sacerdote, e insomma, diamoci giusto un'occhiata, già che ci siamo, lo facciamo, perché no? Allora, questo, cosa dice? Vediamo un po'. Qui c'è un record. Se mi permetti, questo corrisponde al livello di fondo. Non creare se non sei sicuro che devi creare. Esattamente. Aggancia o crea significa prima. Aggancia o crea. Ora, questa opera precisa mi sa che non c'è, a dire il vero, se vogliamo essere precisi. Tuttavia, tuttavia, perché questo è un articolo, pagine 147-214, ecco perché non c'è. È in antologica, anno, eccetera, quindi è un articolo, ecco perché non c'è. Però, diciamo, visita all'Iminas durante il pontificato di Sisto V, insomma, il nome coincide, sacerdote, sacerdote, anche se... Appunto, il coautore, ah già, il coautore, giusto, qua c'è Ramon Robres-Luch, vediamo un po' se c'è anche qua. Questa è una buona idea. Sì, beccato, eccolo qua. I Dref ce lo dà. È lui, sì. Ottima, buona l'idea dei coautori, sì. Buona l'idea dei coautori. Quindi, copiamo il Q e lo incolliamo qui. È uno in meno dei non abbinati. Questo passa direttamente dai non abbinati agli abbinati ed è bellissimo. In altri casi non si può pensare che ciò accada, ma tendenzialmente invece bisogna creare. Tipo, prendiamo Alma Maria Tantillo Mignosi, che difficilmente sarà presente in Wikidata. Allora, ci sono tre record. Diamo un'occhiata. Bracciana Giorcini, Chigi, ok, storica dell'arte, d'acqua e croce. Alma Maria Tantillo Mignosi, uno cosa fa? Se vuole essere sicuro che non ci sia in Wikidata, beh, in realtà posso usare anche questo link qua. Ma, allora, così non è presente. Se ci metto solo Tantillo, non è presente. Se ci metto solo Mignosi, non è presente. Potrei anche addirittura provare a staccare Alma Maria, ma anche no. Non è presente, diciamo. Possiamo anche cercarla dentro il VIAF. Già che ci siamo. Cerchiamola anche dentro il VIAF. Qui abbiamo un VIAF aperto. Quindi, mettiamocela dentro. Oh, oh, ah, cinque VIAF, bellissimo. Cinque VIAF, ottimo, caso meraviglioso. Bello, bello. Sono tutti lei, diciamo, sono tutti lei. A questo punto cosa facciamo? Allora, siamo di fronte a questa cosa. Entriamo, entriamo nel... La cosa che io consiglio, poi ci sono altre possibilità. Io consiglio di entrare nell'hashtag che si manifesta quando ci passate sopra. Lo vedete l'hashtag? Ecco. Io entro nell'hashtag, entro qui, vedete, arrivo qua. Urb Sofors. Vedo appunto il nome della entry, il suo... Il numero della entry, il numero nel catalogo, descrizione vuota, tipo umano, tante grazie. Qui posso indicare un elemento di rinuovo ONA. Ecco, se scendete un po', vedete questi risultati da altri cataloghi, con a fianco potenziali elementi da creare, su cui io clicco. Potenziali elementi da creare, su cui quindi io arrivo, è una pagina in cui mi dà tutti i cataloghi che hanno esattamente quel nome al loro interno. E in un caso come questo, adesso, a voler supporre omonimia, cioè, ecco. Cioè, supporre che esistano due Alma Maria Tantillo Mignosi che entrambe hanno scritto cose degne di entrare in biblioteche, non regge per il rasoio di Occom e per altri mille motivi, per cui tutte queste sono la medesima persona che io vado a creare. Mettendo tutte le spunte con selezione alle checkbox e cliccando, l'ho fatto un po' velocemente, su Crea un nuovo elemento per queste cose. Ecco, Crea un nuovo elemento per, ecco, questa cosa qua. L'elemento si crea più o meno velocemente, talvolta ci metto un minutino, eh. Nel caso in cui vediate che sta lì, aprite, fate altro e poi a un certo punto arriva. E in questo caso è stato molto veloce, quindi è nato un nuovo elemento che noi festeggiamo entrandoci dentro. Vedete che io entro dentro l'elemento. La cosa bella di questa funzione è che mi dà già varie cose compilate, mi dà una serie di etichette compilate in varie lingue, che cosa buona e giusta, questo non lo mostriamo. Cioè, Wikibridge è sempre ok. Poi abbiamo, ah, abbiamo anche, ok, interessante. Vedete un po' di alias che poi si potrebbe raggiungere. Perché ecco, l'idea di cercare Alma Maria staccata evidentemente aveva un suo senso. Quindi possiamo già aggiungere un alias Alma Maria Tantillo, che male non gli fa. Ok, poi potremmo aggiungerne anche altri dopo. Vedete che ha già compilato che è un umano e che ha già messo un VIAF, uno, il principale. Prima cosa che facciamo è andare ad aggiungere gli altri. Quindi adesso andiamo ad aggiungere altri VIAF. Vedete anche una duplicazione nella Vaticana, già che ci siamo, la state intravedendo forse. Allora, aggiungiamo il secondo VIAF. Adesso, dunque, secondo VIAF. Terzo VIAF. quarto VIAF e l'ultimo VIAF, quello per il lituano. Direi che vale la pena spendere una parola sul discorso. Cioè, perché vale la pena, è importante, è importante, insomma, che peso a mettere dentro l'Uichidata tutti i VIAF. È un aiuto per capire che il VIAF sta facendo un lavoro di bassa clusterizzazione, in questo caso. Può darsi che il VIAF lo sfrutti per migliorare i suoi cluster e fare solo di uno, quello relativo a questa Anna Maria. Può darsi che non lo sfrutti, non ci devono scandalizzare perché VIAF lavora solo automaticamente, quindi o hanno una procedura per fare questo lavoro. Però in realtà lo sfrutta. Oppure lo ognuno. Però, insomma, c'è un certo ritorno. In tempi medio-lunghi, effettivamente qualcosa accade. Ora, in un caso del genere in cui abbiamo visto che la persona si presenta con un po' di forme diverse, può aver senso andare nella ricerca interna di Wikidata, cioè di Mix & Match, e mettere dentro, tipo Tantillo, che penso che ci sia sempre come cognome. Magari questo Alma con asterisco, che vuol dire, cioè Alma o Alma Maria, o anche Alma Maria staccata, insomma, con questo magari troviamo altre entry di Mix & Match che si potrebbero abbinare e le abbiniamo. Questa ricerca è lenta, quindi nel frattempo facciamo altro. È una ricerca molto lenta, facciamo altro. Allora, sesso, femmina, nome, Alma, Maria, che direi si presenta soprattutto in forma attaccata. Come dicevo forse a qualcuno, peraltro in forma attaccata, Alma Maria non ce l'abbiamo nemmeno come nome, quindi a me lo saltiamo, va bene, pace. Vogliamo inserire il doppio cognome, ci proviamo. Allora, inserire prenome e cognome non è che sia una cosa fondamentale. Ha una principale utilità che è la seguente, se vorrete in futuro fare una query ordinata per cognome o fate questo o non si ordina per cognome, ma per il resto non ha grande utilità. Quindi, insomma, sentitevi liberi di non aggiungere prenome e cognome, io lo faccio così per sentimento di completezza. Quindi, volendo potrei, cioè, volendo possiamo anche mostrare come si crea un prenome, io vado su crea un nuovo elemento, gli dico crea un elemento, questa è una cosa molto semplice, in realtà gli dico crea Alma Maria, ops, crea Alma Maria, che ha un prenome femminile, così, semplice, poi gli dico che Alma Maria è un prenome femminile, vedete anche qui Quick Presets che mi aiuta, posso anche tendenzialmente, cioè potrei anche dirgli altre cose, ma intanto facciamo proprio semplice, semplice, e a questo punto, una volta che l'ho creato, lo posso aggiungere, questo è anche, adesso diamogli un attimo tempo del caricamento della pagina, perché Stefano ha impostato tanti gadget e questi possono leggermente appesantire il caricamento, che comunque arriva. Ok, buono, prenome, Alma Maria, vedete, è andato. Poi, appunto, questa perché mi chiede di aggiungerci anche nome originale locale alfabeto, cioè lui vuole che io torni in Alma Maria e inserisca anche, vuole che inserisca che il nome originale locale appunto è, ops, scusate, che il nome originale locale è Alma, quindi va in sovrapposizione, per un piccolo problema di sovrapposizione, ma va bene, Alma Maria in italiano, ok, voleva questo e voleva che gli inserissi che il prenome è in alfabeto patino. Con questo poi tace, nel senso che è soddisfatto. E vedete che è soddisfatto, non mi dà più l'errore. Cioè, me lo dà ancora, no, no, me lo dà ancora per un problema che lo deve vedere, ci metto un attimo a vederlo e poi non me lo dà più. Un altro metodo per creare i nomi che mancano o altre cose analoghe, semplici, eccetera, è duplicare. Vai su nome, duplichi e sostituisci. Qui abbiamo beccato altre persone, vedete. Duplichi in Alma Maria, semplicemente, non è troppo difficile da fare. Allora, pare che effettivamente la mia ricerca abbia avuto un senso perché vedete che abbiamo trovato altre persone tipo Alma Maria Tantillo scritto staccato oppure anche Alma Maria Tantillo scritto attaccato in altri modi strani. Insomma, c'era una serie di cose che non avevamo beccato e che abbiamo beccato adesso, quindi aveva un suo senso. Vedete, abbiamo un Alma Maria scritto staccato e poi Tantillo Mignosi, quindi aggiungiamo alias, abbiamo un Alma Maria staccato, Tantillo Mignosi, abbiamo anche Alma Maria Tantillo senza Mignosi però attaccato. Vedete, sono tutti alias possibili che aggiungiamo. A questo punto vediamo un po', eh sì, vediamo un po'. Qui ci sono altre cose da aggiungere, WordCut e altri pezzettini dei VIAF che abbiamo preso, che aggiungiamo. ha scritto in italiano, ok, adesso dobbiamo solo capire, allora, le date mi sa che è un'impresa trovarle, però possiamo almeno cercare di capire cosa faceva. Tipo, che so, primo tentativo, i DRAF mi verrebbe da dire, su DOC, vediamo un po'. Restauratrice. Non so se si vede, non so quanto si vede, ma qui c'è scritto restauratrice. Quindi ci mettiamo intanto, ci fidiamo di DRAF, comunque DRAF ce lo dice, quindi di restauratrice. Restauratore, non ristoratore, ma restauratore. A questo punto ricarichiamo e usiamo il DRAF come riferimento, quindi andiamo a prenderci di nuovo, di nuovo, l'ho passato, no, non l'ho passato, sì, l'ho passato, questo ordine mi... Ok, i DRAF qua, perfetto, saliamo e lo incolliamo sul restauratore, ok. E per beccare le date, uno può tentare una ricerca a Google, a un certo punto, allora, Alma Maria Tantillo, primo tentativo senza nient'altro, vediamo, allora, qui nulla, nulla, è il nuovo direttore dell'ICR, quindi abbiamo, sappiamo, questa è la direttrice dell'ICR, dopo il croce, volendo lo potremmo inserire, adesso non lo inseriremo, nulla direi, nulla, nulla. Secondo tentativo, nascita. Si spera a volte in curriculum, mi sa che il curriculum si trovano per persone attive più di recente, quindi nulla. MIBAC, direttore di istituto centrale per il restauro, ecco cosa vuol dire ICR, istituto centrale per il restauro, però nulla. Terzo tentativo, Nata. Niente. Sono i tre tentativi che di solito faccio, a questo punto uno si arrende. Cosa? Non ce l'abbiamo. L'ICU in questo caso sicuramente, sicuramente l'ICU è un identificativo per lei, però vedete che non l'abbiamo estratto dal VIAF, non c'è da nessuna parte, e questo perché lo mostriamo, così diciamo didattica. Allora, Alma Maria, adesso lo cerchiamo in OPAC SBN, giusto per dare un'idea. Cosa succede con l'ICU? Allora, Alma Maria Tantillo. Vedete che ci sono alcune opere, questa è evidentissimamente lei. Io ci entro dentro e poi cosa succede? Vedete che qui a fianco non c'è scritto scheda di autorità? Io ci clicco sopra. Giungo a questa pagina dove vedete cinque risultati per questo authority. Vedete, questi qua sono cinque cose sue, vedete che ci sono anche degli spogli, ci sono anche degli spogli che sono sempre una cosa carina. Questo forse è un duplicato ad occhio e croce. Mi sembra proprio un duplicato, fatto due volte, una dalla Nazionale di Roma e SBL, che non so che sia, quindi c'è pure un duplicato. Però insomma, SBN riconosce questa persona come esistente, ha delle sue opere, secondo me sono anche un po' poche, quindi forse ci saranno anche più entri, non lo so. Però il punto è che io non ho, vedete ecco, qui c'è il, questo è l'identificativo di SBN, però SBN non mi mostra, non mi mostra la scheda di autorità che pure esiste associata a questo coso, ma non me la mostra. e quindi io lo posso anche linkare su Wikidata con un po' di difficoltà. Cosa faccio? Lo riporto qui, vado ad aggiungere una dichiarazione, gli dico SBN, poi lo devo fare così, metto it slash con la cosa sinistra, iq slash con la cosa sinistra, kfiv e poi qui ci metto un altro slash e poi lo posso salvare. Cosa succede? Questo qua, se io ci entro dentro, mi dice non trovato. Il che però è in un certo senso falso, nel senso che il fatto che qui, come lo dia, come i risultati delle ricerche, me ne dia 5, dimostra che esiste e che è vivo. Il fatto che mi dia non trovato è perché SBN, per il motivo che lo considera in qualche modo un record povero o comunque, sì, non ottimale, lo nasconde, quindi mi impedisce non solo di vedere quello che c'è dentro, che magari se viene c'è anche messo dentro qualcosa, tipo questa direttrice dell'istituto centrale per il restauro, magari ce l'hanno anche messo dentro, ma insomma me lo nasconde del tutto. E quindi io lo posso anche inserire in Wikidata, solo che non ha questa grande utilità. Lo posso inserire, questo nessuno me lo vieta. Posso anche aggiungere come riferimento questa cosa orribile, cioè quest'URL, perdono, scusate, posso metterci un URL di riferimento per l'identificativo a cosa che di solito non si usa. In questo caso può convenire per dire che, insomma, io l'ho visto che c'era, che c'era, il 30 novembre quest'URL mi dava dei risultati, perché vedete da qui io vedo che, insomma, qualcosa esiste. Però, quindi noi sappiamo che esiste, ma è evidente qualunque autore italiano, qualunque autore italiano, salvo forse rarissime eccezioni, è presente in almeno una biblioteca membro di SBN, che comunque SBN prende un numero alto di biblioteche italiane, quindi è evidente che qualsiasi autore italiano quasi c'è dentro SBN. Ma per la gran parte di essi SBN decide di non mostrarci gli identificativi e quindi di renderci A, difficile linkarli e B, anche poco utile linkarli. Quindi scelta vostra se fare questa cosa, io l'ho fatta così anche per fine didattico, ma non è che abbia tutta questa utilità, dipende dal vostro grado di amore per SBN. Sì, che domani nasca il regolo d'autorità, SBN legato a queste indicazioni. Questa cosa perché me la tengo. Cioè che più che nasca, appaia, venga a galla. Quindi lo mettiamo, non lo mettiamo in liquidata? È una questione che... In ogni caso, diciamo che in ogni caso, la ricerca per i suoi demografici sarebbe interessante. Mi eviterebbe A, di mettere questa cosa e B, di essere costretto ad avere una cosa in cui io entro dentro e ho nessuno che l'ho trovato che è una cosa comunque falsa. Però allo stato attuale la situazione è questa, a noi dispiace. C'è una certa speranza, tentativa. Abbiamo speranza, abbiamo speranza. Ecco, questo quindi diciamo... Andiamo a crescere un po' su alcuni aspetti. Questo è il problema legato a SBN. Diciamo che a prescindere dal fatto della scelta poi di inserirlo o meno in casi del genere, in ogni caso in questo caso SBN, siccome non ci mostra cosa c'è dentro quel record, magari è vuoto. Magari non è vuoto, ma in ogni caso noi non lo sappiamo. E quindi in questo caso non lo possiamo usare come fonte. Sì, sì, sì. Questi sono solo, diciamo, spot sulla logiche di ricerca... No, no, certo. Ah, certo. Per un autore italiano ovviamente uno spera di trovare SBN, perché quando lo trova di solito è utile. Di solito, non sempre. Però di solito è utile. La gerarchia dei modi, Luigi per esempio, ce n'ha alcuni, no? Per esempio dice, ok, curriculum vitae. E altre chiude, addirittura quando è già un po' passato, che ci metto anche... Che qua non c'è niente. Obituary. Ah, certo. Ci metto anche, no? E quindi sono tutte tecniche che ci possiamo scambiare come esperienza, però che nessuna è risolutiva di sua. Certo. Qual è quella che improva? Qual è che magari oggi non funziona, domani funziona, perché è nata l'informazione, è diventata pubblica la data di nascita di una persona perché ha messo nel suo curriculum vitae, che è cosa che stanno tendendo a non fare. Diciamo, diciamo che... Però almeno... Il signore... Però il curriculum serve almeno per dire l'occupazione, che sono il curriculum, anche se non trovi la data di nascita, di certo trovi l'occupazione, per dire. E già quello comunque è importante. Questo è un mondo, diciamo... Diciamo... Molto gommoso. Sì. Il curriculum si trovano per persone, diciamo, il curriculum si trovano per persone che erano ancora professionalmente attive in un'epoca in cui internet diventa ampiamente diffuso. Mi viene il dubbio che questa persona, poi anche lì si potrebbero fare delle ricerche tipo sulle date delle opere, eccetera, mi viene il dubbio che questa persona sia andata in pensione o comunque sia entrata in una fase in cui non le serviva più presentare un curriculum a qualcuno, prima che internet diventasse ampiamente diffuso, e quindi qui un curriculum non lo troviamo, è evidente. Curricula, se no, sono in generale la prima fonte, almeno per quanto riguarda l'occupazione, ma qui un curriculum non lo troviamo. Nel momento in cui le uniche fonti, come spesso accade, sono i cataloghi di biblioteche, in generale gli authority file migliori in cui guardare sono, per gli italiani, SBN quando c'è, ma non c'è molto spesso, a livello generale quelli in cui si trovano più informazioni sono sempre quelli, cioè Library of Congress, GND, BNF, Sudoc. Questi sono i quattro principali in cui si trovano più informazioni. Io dico a volte anche quello cieco, l'NKCR, che si impegnano molto e spesso ci sono cose molto carine in quello cieco, e poi gli altri hanno talvolta informazioni utili, ma più raramente, soprattutto magari, che so, quello olandese magari per gli autori olandesi talvolta, oppure quello polacco per gli autori polacchi, poi quello appunto, cioè ovviamente dato un singolo stato, di solito il catalogo afferente a quello stato è il primo da guardare, se è disponibile. Per autori rumeni, ad esempio, il catalogo della Biblioteca Nazionale rumena, non ce l'abbiamo, cioè se l'abbiamo su Wikidata, ma non ci abbiamo lavorato praticamente molto, cioè ci sono stati ovviamente meno coperti, e lì uno, insomma, si arrabatta, però gli stati principali in realtà di solito hanno degli buoni autority file che almeno per gli autori afferenti a quello stato sono attendibili. L'Italia fa un po' eccezione, e questo ci dispiace. Ci ho detto, questo elemento, per quanto è il nostro potere, è più o meno completo, diciamo che è italiana, perché a meno che non sia di San Marino o della Svizzera italiana, è italiana. È nata? Dove l'hai beccato? Dove? Dove l'abbiamo beccato? È un beccato anzino del seminario. Ah, e allora è italiano. Buono. Aspetta, aspetta. Palermo. Dunque, aspetta un attimo. Sì? Ah, già la direttrice, aspetta, questa cosa qua forse il Vaticano. Andiamo un attimo. No, più giù. No, no, questa no, però... Aspetta. Ah, ma no, qua c'è solo scritto. Ok, no. Dove l'abbiamo beccato che ha avuto l'onereficenza? Aspetta un attimo. Dove... Cioè, qualche onereficenza è? Poi se uno si impegna a cercare, spesso almeno qualcosa salta fuori. Vediamo un po'. Sì, ognuno deve decidere quanto impegno a mettere con ogni voce, perché ovviamente... Che sito è? Scusa che vengo a vedere. ...e proprio ambiente di lavoro. Di solito lo dovete provare. Qui si capisce come un ufficio specifico, diciamo, il lavoro sull'autorità, potrebbe avere il suo senso, no? Tant'è che adesso... Ah, con Mignosi è tanto... Ok. Accidenti. Allora, questo qua ce l'abbiamo anche... Si comincia a parlare più di metadattazione, di metadattatori, di catalogatori. No, che è una terminologia... Facciamo una ricerca anche su Mignosi. Questa è ragione. Sì, sì, sì. Facciamo una ricerca anche su Mignosi. Perché poi, ecco, con doppio cognome drammatico, cioè... Tantillo e il Marino. Ecco, figurati, vedi? Eh, ok. Tantillo e il Marino. Eh, appunto. No, questo, ecco, ad esempio, il sito del Quirinale, che adesso... Vedete, perché ce l'abbiamo anche su Mix & Match, questo, infatti. Però è sotto Mignosi. Questo ci dà anche un'altra informazione interessante, cioè, allora, dobbiamo aggiungere tra gli alias anche Alma Maria Mignosi. Aggiungiamolo un attimo. Allora, aspettate. Allora, vabbè, English, ci mettiamo Italian, Restorer. Quindi qua ci va Restauratrice Italiana. Qui ci prendiamo Alma Maria... Scusate. Allora, così. Alma Maria... Oh, diamene, copia e incolla. Scusate. Allora. Lo scriviamo. Niente. Alma. Eh, vabbè. Eh, la tastiera. La tastiera. Niente. Tutto si rimedia. Allora, Alma Maria Mignosi. Ecco, il fatto, allora, il fatto che il sito del Quirinale, che adesso ho connesso e che è questo qua, usi questo cognome, con luogo di nascita Palermo. Allora, questo è fonte, indubbiamente, quindi aggiungiamo che è nata Palermo. Sì, giustissimo. Cosa? Ed è nata Palermo. Esatto. E questo si può aggiungere, in realtà, si può aggiungere perché? Si può aggiungere, anzi, in due diversi modi che sono entrambi utili al loro modo. Allora, abbiamo aggiunto canata Palermo. Nome di nascita. Allora, nome di nascita, Alma Maria Mignosi. Lingua, italiano. Se no, non me lo fa salvare. E si può anche fare un'altra cosa, e cioè, aggiungi qualificatore. Ruolo dell'oggetto. Cognome da sposata. E aggiungi qualificatore. Ruolo dell'oggetto. Cognome da nubile. Ricarica. Sito del Quirinale, vieni a me. Allora, dove stai? Più su. Questo ordine mi disorienta. L'ordine che Stefano ha scelto. Dove? Aspetta un attimo. Ma l'ho aggiunta? Aspetta un attimo. L'ordine è normale. L'ordine è normale, no? Un fine, un fine. Queer. Ecco, no, decorato, ecco questo qua, decorato della Repubblica Italiana. Eh, infatti, non è identificativo. Poi magari ce lo, magari modifico con l'etichetta. Allora, niente, lo copiamo qua su, lo mettiamo su luogo di nascita a Palermo. Esatto, corretto. E dove l'abbiamo beccato stavolta? Ecco. Dov'è? Grandi. Ecco, punto. No, perché probabilmente cercando la sotto Mignosi, ma infatti si fa questa cosa. Io a volte la faccio quando mi impegno. Ma adesso datemi, aspetta. Molto divertente. Devo, devo... Spremere la fonte internet è tutta un'arte, no? Brill, eh? Eh sì. Allora, riproduciamo la cosa. Riproduciamo. Allora, Alma Maria. Ah, sì. Allora. Alma Maria, Mignosi, Palermo. E se va come lì, solo che mi pare di no. Allora, no. Ah, ti è scritto così, scusate, su Google. Separato, Alma Maria, Mignosi, Palermo. Eh, perché è interessante, perché questo è vero. Google dà talvolta risultati diversi a persone diverse. Questa è una prova interessante. Eh, appunto, ok. Andiamo, andiamo così. Allora. Alma Maria, Mignosi, copia, tratta. Questo è un metodo... Va bene. Non è un problema. Luigi, aggiungi pure sull'elemento multidate. I... 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 Da duro. Cosa? Può nemmarca da duro, no? Per detto, tutta. Allora. Lei ha anche un suo sito. Alla Maria, un'inchiata di... Ma dai. Aggiungiamo anche questo. E che diamine. Però, cioè... Allora. Perché questo, secondo me, questo computer, è possibile che sia impostato in qualche modo, tipo anglosassone, quindi forse becca meno le cose italiane. Può essere. Mi viene questo dubbio forte. Allora, niente. Aggiungete voi quel riferimento. Aggiungetelo voi. Metteteci URL di riferimento. Aggiungetelo voi all'elemento, così poi lo vediamo qua. Io vengo un attimo a vedere quel sito ufficiale lì. Scusate. Il sito ufficiale della signora. La restauratrice. Vedrai che ci troviamo anche qui. Questa è un po' è diversa. Mi sembra che sarà una vera peccata. È un'altra. Maria Elena Mignosi è un'altra. Ah, sarà una sorella. Può essere. Allora. Dunque. Cosa abbiamo qua? Allora, questo ce l'ho messo io. E adesso loro stanno aggiungendo il riferimento al fatto che è nata. Cioè, stanno aggiungendo che è nata nel 38. Adesso glielo lasciamo fare. Così poi lo vediamo qua. Diamo un attimo di tempo. Secondo me qua è che è impostato in modo anglosassone. Sì, è possibile. Penso, cioè... Ok, ritenga... Cioè, forse tipo l'impostazione in Google del paese di origine secondo me potrebbe contare, sì. Perché di... Cioè, appunto, cioè, è proprio... È palese. Io cercando la stessa cosa... Cosa? È un intento anonimo. Siamo... Non siamo logati qua. Qui non siamo logati. Su Google. Forse... Non mi ricordo se puoi dare qualche esperienza. Diteci quando avete fatto. Vuoi che stringi la ricerca sul site.it.it. Sì, sì. Magari se sono solo .it lo necessitano. Intanto vorrei dare una affa... Aggiunta? Con calma. Sì, sì. Tranquillo. Beh, intanto, allora, se è nata nel 38, ci mettiamo anche il Regno d'Italia, perché comunque così intanto lo mostriamo. Mettiamo anche il Regno d'Italia. No, no, no. Cioè, se non ci si incrocia proprio nello stesso secondo, non è un problema. E vedete, lo ordiniamo prima per ordine cronologico. E adesso aspettiamo, così poi... Ah, posso già modificare qui in cima sapendo ciò che sta per accadere. Direi che... Direi che... In realtà è stato rivellabile. Probabilmente anche. Sì, probabilmente anche. L'hai trovata, non? Magari da fonte, diciamo. Magari si deduce anche da... Si deduce anche, sì. Quello sì, assolutamente. Ma infatti... Però... Possiamo intanto aggiungere senza fonte, eh. Non è che sia proibito. Se lo deduciamo da nessuna... Cioè, se lo deduciamo noi, si può mettere. Fatto. Storica dell'arte. Storica dell'arte. Ah, del ICR. Ecco, anche mettere una pagina di riferimento dell'istituto, verso cui lavora la persona. Vediamo. Allora, andata. 28 novembre del 38. Perfetto. Questo è interessante perché dimostra come... Tiamoci anche un consultato, già che ci siamo, anche se non... Essendo un PDF, però, così tanto per... Ecco, e per dire che più che altro la pagina esisteva all'epoca, perché qui se cerchiamo all'interno... Se è corretto. Alma Maria Mignosi, nata... Nata... 28... Documenti pubblici. Perfetto. Documenti pubblici, questo anzi. Non è una persona in tre ruolo dove... Assolutamente. Possono spesso portare date... Nome e cognome date... Questo... Ecco, a tal proposto, già che ci siamo... Possono essere utili. Questo adesso magari... Però ecco, già che ci sono, vi mostro una cosa. A questo punto. Cioè, c'è una paginetta mia... In cui io mi sono riunito nel corso del tempo. Alcune fonti che ritenevo interessanti. La trovate come user... Epidosis. Slash. Sources. Invio. Voi non avrete quella cosa blu che viene fuori. Ecco, questa roba qua. Allora, ecco, vedete tutta questa serie qua. Middle Age Sources. Questa roba qui. Sono tutte cose che ho ritenuto in qualche modo su fonti utili e me le sono salvate in una mia sottopagina utente per futura memoria. Ah, questo qua l'ho finito, peraltro. C'è ancora in corso, ma l'ho finito. Li ho fatti tutti. E no, ecco, queste qua potrebbero essere fonti utili, talvolta sono principalmente su cose italiane. E boh, nel caso sappiate che questa pagina esiste. E niente, questo era bene. A questo punto, diciamo, io un esempio l'ho mostrato, è stato più lungo del previsto, ma io un esempio l'ho mostrato e adesso sarebbe previsto che da qui alla fine voi create altri elementi. Quindi, adesso cominceremo a girare, a meno che non vogliate. Magari posso mostrarne un altro, spero più breve. Vediamo, facciamolo, possiamo anche fare. Allora, vediamo un altro esempio. Magari una persona che non abbia un doppio cognome. Dunque, perché il doppio cognome, come vedete, è sempre un po' un disastro. Allora, Stanislao D'Aloe, sì, interessante. Vediamo subito. Andiamo su potenziali elementi da creare. Vediamo un po' cosa c'è. Allora, diamogli. Il caricamento di solito è relativamente veloce, ma non sempre. Ok, l'ha preso. Questo esiste già. Ah, peraltro, vedete, con questa cosa che è brutta. Vedete, esiste già. Allora. Vedete? Lo spazio tra l'apostrofo e che invece non ci dovrebbe essere. Si sistema, esatto. Vediamo che in generale, sì, la forma preferita sembra quella di SBN, quindi questa. Quindi qui. Questo è un altro caso di elemento che esiste. Stanislao D'Aloe. Uniformiamo, uniformiamo sulla forma di SBN. Poi, davvero esiste qualcuno che lo chiama Stanislao? Sì, sì. Eh, sì, sì, sì. Volevo vedere. Allora, BNF cosa dà? Vediamo un po'. Stanislao? Ah, pure con il, sì. Ok, allora, in BNF la forma preferita è questa, che va ovviamente mutata, però ovviamente sul francese ci mettiamo comunque la forma italiana come alias, qualche fonte francese potrebbe legittimamente usare. Con l'accento vedo il risma. Vediamo un po' il risma. Allora, il risma è sempre francese, ecco, coloro invece usano l'accento, allora niente, il risma, lo copiamo e lo mettiamo come un altro alias in francese qua. Qua, poi, allora, togliamo, togliamo queste cose, lo mettiamo qui, intanto salviamo che non si sa mai. Questi qui sono sempre, cioè, questi qui sono la medesima persona, insomma, Diamine, Stanislao, Dalo e con tutto il rispetto, anche qui, insomma, si va oltre ogni legittimo dubbio, personalmente. Piak, Rix, ISV Roma, qua mi viene qualche piccolo dubbio, ma secondo me è una duplicazione della nazionale greca, ma lo lasciamo lì per sicurezza, e qui ci mettiamo anche Urbs, che vedete non ha fatto match, e invece lo facciamo noi. Quindi, perché Urbs aveva la forma corretta, ma su Wikidata c'era questo strano spazio tra l'apostrofo e il nome, che impediva, ce ne sono anche altri che non hanno fatto match, come vedete, l'apostrofo tra il nome, eccetera, impediva il match, quindi questo in realtà esisteva. Torniamo indietro e vediamone un altro, perché questo esisteva. Allora, vediamo un altro, vediamo un po' cosa ci ispira. Franco Crevatini, proviamo qua. Esiste. Cioè, temo che esista. Come potete vedere, adesso lo vediamo anche da qui, potenziali elementi da creare è... Allora, mi sa che anche questo esiste. Peraltro con qualche piccola discrepanza... Ah, interessante, 58, potrebbero esserci addirittura più omonimi il disastro. È meglio se andate voi, io questo poi me lo guardo dopo, perché se no ci mettiamo un altro quarto d'ora. Evitate Franco Crevatini, andate voi sul vostro catalogo e poi questo me lo analizzo stasera. Allora, avanti. Anche a quelli online, divertitevi con qualche catalogo. Allora, a questo punto... Noi ringraziamo molto le persone online, qui sostanzialmente abbiamo finito, è andato tutto molto bene. Ho segnato i nomi delle persone che hanno partecipato almeno in presenza nella pagina dell'evento, cioè i nomi utente. Speriamo di rivederci presto, continuate a modificare Wikidata e se avete qualunque dubbio scrivete via mail a Stefano Bergioni, a me o a qualunque persona conosciata che era più presente che saprà reindirizzarvi a noi. A presto, ciao. Quindi anche i nostri lavori qua si sono conclusi, mi sa più o meno. Ciao. Ok. Facciamo un applauso. Facciamo un applauso.